breve resoconto del loro raccolto oggi sono già a casa non ho fatto filmati sul torrente perché ho preso da fuoco poi pioviginava sono usciti due pezzetti pezzettine adesso vi faccio vedere mettiamo gli occhiali e allora queste sono le scagliette piccolina bellina un po grezze e queste sono le due più grosse cominciamo da questa facciamo stare le altre che non ritiro sotto il dito cominciamo con questa vediamo se riesco a girare dalla parte giusta perché alla forma di un cagnolino quindi la chiamerò quindi come la mia cagnolina abbastanza spessa vediamo cosa mi dice la bilancia 006 ci avrei giurato che erano 006 poi passiamo questa questo è il mio dito questa è una punta di freccia sembra una punta di freccia la piccola piramide d'oro della grezza non molto spessa peccato però una forma straordinaria bellissima andiamo pesarla 00 0,20 eh sì non pesa molto rispetto alle altre che ho trovato quella da 0,28 quella da 0,25 però 0,19 cosa fai scendi di peso nel calo peso no 0,20 0,20 gli mettiamo sopra anche la sua amica un quarto di grammo in due e poi mi restano queste qui avrò uno 0,6 comunque siamo sì vediamo un po' 006 005 tra tutto più o meno sì quindi siamo solo 0,30 d'oro anche oggi ma queste due sono stupende facciamogli una foto mettiamola nel piatto questa è la sua freccia non c'è male potrebbe essere molto di più io uso un tubo io come canaletto un tubo corrugato piccolino sarà 30 cm adesso ripristinerò la canaletta quella vera e propria e vediamo se mi salta fuori qualcosa di più vabbè direi che abbassiamo il campo direi che è andata bene non è tantissimo però sono due pezzetti interessanti alla fine quello che cerco sul mio rio di pezzetti interessanti potrei raccogliere 2 3 grammi d'oro e non mi darebbero la stessa soddisfazione a me piacciono questi pezzettini qua un po' particolari buona giornata a tutti ciao la piramide stavo cercando gli occhiali comunque sono belline anche le altre delle belle scagliette queste qui la wendy e questa devo trovarle un nome ma la chiamerò punto di freccia che si abbice ciao a tutti